Hai mai sognato di esplorare mondi nascosti, di decifrare antichi enigmi e di scoprire segreti sepolti dal tempo? Preparati a immergerti in terre sconosciute, a risolvere enigmi e a sfidare l'ignoto. Il professor Giorgio Pastore sarà la tua guida in questo viaggio oltre il confine. Non perderti le puntate di X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Iscrivetevi al canale YouTube CropOnline, mi raccomando!